Musica Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri la Palla Noto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi in nostra compagnia il vice allenatore della San Mauro Noto, Oreste di Pasqua, ciao Oreste, bentornato, è un piacere di trovarti. Ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti. Oreste, sabato scorso l'esordio in campionato, sconfitta per la San Mauro Noto, 8 a 5 alla Scandone contro la Basilicata. Con quali indicazioni avete archiviato il risultato maturato nel debutto in campionato? Allora, sicuramente sabato è stata una brutta sconfitta, è stata una partita molto difficile per noi, molto particolare e diciamo che ce l'aspettavamo. In settimana avevamo preparato delle cose, soltanto sabato non è riuscito nulla, ma questo va dato merito al Basilicata che veramente sabato ha dato tutto, infatti a fine partita abbiamo fatto i complimenti a tutti, a partire dai giovani che poi alla fine hanno fatto la differenza, soprattutto ai veterani. Per lui è stata la prima partita, sapevamo che era difficile ora da archiviare e pensare già alla partita di sabato prossimo. E l'approccio al match è stato sicuramente la nota dolente della giornata. Come spieghi la brutta prestazione, permettimi di dirlo, che la squadra ha offerto soprattutto nei primi 16 minuti, mi ha colpito un timeout nel quale ho visto arrabbiato un Cristian Andree che raramente perde le staff. Ma guarda, allora, se noi, allora io e Cristian già abbiamo analizzato la partita ieri, allora come prestazione noi l'abbiamo fatta. Siamo stati però poco concentrati e poco cattivi nell'ultima fase, nella fase dove bisogna mettere il pallone in porta. Sicuramente non siamo partiti bene, siamo partiti molto poco determinati su alcune cose, soprattutto nella fase difensiva. Basti pensare che la partita nasce su un passaggio facile messo al centro e alla prima azione abbiamo preso rigore, un rigore molto molto semplice da evitare, soprattutto nelle prime fasi della partita. però analizzandola, noi dobbiamo analizzarla soprattutto per crescere e far crescere i ragazzi. Abbiamo prodotto tanto gioco, basti pensare, mi sembra che abbiamo avuto 17 escursioni a favore, un rigore a favore, quindi vuol dire che qualcosina abbiamo creato in attacco, però se su 17 uomini in più ne segni forse due o tre, vuol dire che qualcosa non va. Quindi è da questo che dobbiamo ripartire. Però in tutto questo c'è da sottolineare ancora la bravura del Basilicata e la loro determinazione in fase difensiva. Certo. C'è stata sicuramente a penalizzare la preparazione della squadra, anche il continuo riprende e interrompi dovuto ai casi di Covid, la sospensione dell'inizio dell'attività. Quanto ci vorrà perché i ragazzi possano ritrovare il ritmo partita ideale? Ma guarda, allora, oggi l'importante è essere tornati a giocare. Sicuramente lavorare senza un minimo di programmazione è stata dura in questi due mesi, perché bastava un semplice contatto di un positivo per dover sospendere tutti gli allenamenti per qualche giorno, di nuovo tamponi a tutti quanti, quindi è stato molto stressante in questi due mesi la gestione. Ora sabato il campionato è ripartito. Finalmente non vedevamo l'ora, anche perché ai ragazzi mancava giocare. Ora piano piano dobbiamo acquisire il ritmo partita e soprattutto dobbiamo acquisire fiducia in noi stessi, perché sicuramente non siamo la squadra vista sabato col Basilicata, ma abbiamo buoni margini di miglioramento. E proprio in termini di margini di miglioramento ti chiedo, quali sono gli aspetti del gioco su cui la crescita può essere più immediata? Ci sarà qualcosa che magari richiederà un po' di tempo in più? Quello che si può aggiustare già in vista della seconda partita? Allora, sicuramente come già ti ho detto prima, dobbiamo migliorare nella finalizzazione delle nostre azioni. Sicuramente in questo ci concentreremo, ma non solo in questa settimana, ma nelle settimane a venire, perché creiamo tanto, ma segniamo veramente poco. E poi dobbiamo migliorare alcuni aspetti nella fase difensiva, perché anche sabato è vero che abbiamo preso solo otto goal, ma alcuni goal erano facilmente evitabili, quindi c'è ancora tanto da fare. Però il giocare, ritornare al giocare, ritornare al giocare anche in settimana contro altre squadre, questo ci aiuterà per le partite che verranno. E prossima partita in calendario, l'esordio casalingo contro la Cessport. Forse forza un po' la mano, non credo si possa parlare già di scontro decisivo per la salvezza alla seconda partita, però è certamente già una sfida che ha il suo peso. Che partita ci possiamo immaginare? Ma guarda, sicuramente è una sfida importantissima sia per noi che per loro. Come hai detto tu, ora parlare già di scontro salvezza è prematuro. Sicuramente siamo due squadre, sia noi che loro, molto giovani e all'interno hanno qualche giocatore di esperienza. Soprattutto siamo due squadre dove nel roster ci sono giocatori cresciuti nel proprio vivaio. Allora, per noi è importante, soprattutto per il morale di ragazzi. Una vittoria poi ti può aiutare nel lavoro quotidiano. Ovvio, vediamo la partita sabato come andrà e poi inizieremo a capire quale potrebbe essere il nostro campionato. Sicuramente se giochiamo come sabato avremo difficoltà con tutti. Ma se giochiamo al meglio, se giochiamo un poco poco meglio rispetto a sabato, credo che tutti avranno difficoltà contro di noi. Certo. E chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Sta per prendere il via il girone nazionale di qualificazione per l'Under 18A. Con quale ambizioni la San Mauro si allina ai nastri di partenza di questo girone? Mi permetto, perdonami, di ricordare che in questa rosa c'è una parte degli elementi che tu hai saputo brillantemente guidare alla Final Four Under 16 dello scorso agosto. Sì, diciamo, la maggior parte è quell'ossatura là con l'inserimento di 3-4-2004. Quindi l'ossatura è la squadra che ha partecipato alle finali a Ricco. Sicuramente per noi già essere lì credo siamo l'unica squadra ad avere la prima squadra in Serie B tra le 16 migliori d'Italia dove sono tutte squadre che hanno squadre in A1 e in A2. Già per noi aver passato il girone preliminare e aver vinto contro la Canottieri lo scontro diretto è stato sicuramente un ottimo risultato. Come ho detto ai ragazzi e i ragazzi ne sono consapevoli non saremo, diciamo, lì la vittima sacrificale delle altre ma ci andremo a giocare tutte le nostre carte e tutte le nostre possibilità per provare a centrare un altro traguardo storico che potrebbero essere le semifinali nazionali. Ovvio che questo per arrivare a questo c'è bisogno di un lavoro quotidiano e soprattutto continuo che negli ultimi due mesi non abbiamo avuto causa Covid diciamo da inizio febbraio fortunatamente sono rientrati un po' di ragazzi e stiamo cercando di continuare il lavoro che avevamo intrapreso da inizio settembre. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata io ringrazio Oreste Di Pasqua per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Oreste! Buonasera da tutti! Grazie! 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 Grazie!